Allora ragazzi, ne avete sicuramente sentito parlare da tantissimi streamer, content creator, youtuber, chiamateli come volete, e anche da me. Vi ho dato purtroppo la notizia ufficiale, sono stato bannato. Come vedete c'è scritto, il tuo account è stato sospeso per 31 giorni per il seguente motivo, violazione del paragrafo 1.1 dei termini di utilizzo di Supercell. Infrazioni ripetute porteranno alla sospensione permanente dell'account. Ma che cosa è successo? Perché sono stato bannato? Che fine ha fatto Roller Coaster? Perché c'è questo nuovo sfondo? Allora, il nuovo sfondo è perché sono nel mio nuovo studio. Finalmente, in maniera nostalgica ve lo dico perché mi mancherà il vecchio studio, mi sono preso uno studio mio. È infinito, è lunghissimo, giuro che non è un green screen, posso andare in fondo, posso fare quello che voglio, poi farò anche un tour più avanti appena lo sistemo. Che fine ho fatto? Mi sono preso dei giorni di pausa perché sono venuti Nico e Leutum a casa mia. Sarei tornato prima ma come ho scoperto di essere stato bannato e che cosa è successo? Ero con Nico e Leutum in giro, ok, è arrivato un bambino che mi seguiva. A me seguono sia ragazzi un pochettino più grandi, anche qualche adulto magari con il loro figlio, anche adulti in generale che giocano ai videogiochi, ma ultimamente giocando tanto a Brawl Stars mi seguono anche tanti bambini. È un bambino che mi ha fatto vedere di essere abbonato al mio canale Twitch e mi fa, posso aggiungerti agli amici? E gli ho detto, subito fratello, tiro fuori il telefono, inquadro il codice QR perché Super sarà avuto questa bellissima trovata, apro e leggo questo. Il tuo account è stato speso per 31 giorni, lì per lì vabbè, ho detto, eh, let's go ski, vabbè, tanto i romani mi sbannano, l'ho detta proprio così. Tranquillamente, ho parlato con chi di dovere insomma, con chi gestisce Supercell in Italia, con chi gestisce Supercell non in Italia, quindi Supercell globale. Ho parlato anche con l'assistenza, quindi con persone vere che stanno dietro ai ban, eccetera eccetera, e hanno deciso di non sbloccarmi l'account, nonostante io sia un content creator. Ma perché mi hanno bloccato? Sono stato bloccato su Brawl Stars per probabilmente due potenziali motivi. Il motivo più piccolino è che possono aver pensato che io abbia fatto account sharing, questo state molto attenti ragazzi. Account sharing significa avere lo stesso account su più dispositivi, di solito non succede se è su un tuo stesso dispositivo, quindi tipo sull'iPhone e sull'iPad. Però non ne sono così sicuro, perché io tempo fa entrai nell'account di un mio amico e non vorrei che sia questo il motivo. Ma al 95% il motivo non è questo, e vi spiego anche perché. Assieme a me sono state bannate due persone, tra cui il primo in Italia attualmente, che è Hindu, e il sesto, settimo in Italia che abbiamo recentemente aiutato a fare i 100.000 coppe, ovvero Davy. Davy e Hindu sono stati bannati rispettivamente permanentemente, Hindu ha perso il suo account da 110.000 coppe, una roba del genere, mentre invece Davy ha perso il suo account da 101.000 coppe, 102.000 coppe, comunque siamo lì. Perché? Probabilmente per snipe. Snipe significa essere sniperati. Ne ha parlato Grax tempo fa, è una piaga di Brawl Stars. Ci sono le persone che guardando la tua live, se sei un content creator o comunque, sapendo quando giochi, possono entrare nelle tue partite. Queste persone che sniperano, purtroppo, molto spesso, se sono assieme ad altri compagni, quindi se sono assieme a persone che vogliono giocare, che vogliono fare coppe, segnalano, in maniera ossessiva. Da quello che ho capito ci sono degli italiani, che sono andati a prendersi le clip delle mie live, dove ci sono questi sniper, che vengono a trovare me e magari Hindu e Davy che stiamo fusciando nelle 5v5 e ci fanno vincere, cose di questo tipo. Hanno mandato così tanti screenshot che alla fine hanno deciso di bloccarci. Questa è l'ipotesi più grande. Purtroppo non mi è stata data una motivazione ufficiale, quindi non ve lo so dire, ma realisticamente siamo stati bannati per snipe, per cose che non sono nemmeno di nostro controllo. Perché io, in live, dico sempre, se voi volete sniperare, sentitevi liberi. Ma quante volte, quando mi sniperavano, soprattutto in showdown, ho fatto vincere gli altri? Quante volte cerco di essere il meno tossico possibile, cerco di non sfruttare troppo? Invece no, mi hanno bannato per 31 giorni per un qualcosa che non dipende nemmeno da me. Però poi abbiamo fatto vedere in live gente come Tabi, gente come Arashi, che facevano win trading, gente che davvero dà fastidio al gioco e queste persone non sono state bannate. Anzi, queste persone sono ancora tranquillamente libere di giocare. Ci sono persone come Zorlu che si sono fatte 80.000 coppe rovinando il gioco a migliaia di persone e hanno creato trend che hanno rovinato il gioco a milioni di persone, hanno rovinato una modalità intera e sono ancora lì che giocano. Però no, noi che giochiamo in modo legittimo cerchiamo anche di non giocare in showdown, cerchiamo di non fare i tossici, cerchiamo di portare visibilità a questo gioco, perché alla fine su YouTube sono il numero uno. Cosa è successo? Che sono stato bloccato per 31 giorni. Quindi il mio sogno di arrivare in Top 200 Italia verrà spinto ancora più in là, perché tra 31 giorni la Top Italia sarà 82.000 coppe, 83.000 coppe, chi lo sa. Per il momento non posso farci niente, zero, assolutamente nulla. Questo è quello che mi esce quando provo ad entrare nel gioco. Lo faccio rivedere. Io provo ad entrare e mi arriva il messaggino. E il tuo account è stato speso per 31 giorni per il seguente motivo. Sempre questo. Sono andato anche a leggermi il paragrafo 1.1 ed è veramente stra-generico, stra... È pesante. Non andrò a mentirvi, perché lì per lì, quando appunto l'ho scoperto per dare l'amicizia al bro che mi aveva chiesto, mi stavo ridendo un po' su, ero lì con Nico e Leuton. Però poi mi sono messo con calma e ho detto, cavolo, ho iniziato a giocare a Brawl Stars per un solo motivo. Per entrare nella Top 200 non lo posso fare. Perché ci sono delle persone con una vita triste che sono state tutto il giorno a segnalarci, segnalarci, segnalarci. La cosa ancora più triste è che Supercell dovrebbe vederlo, dovrebbe contestualizzare. Io sono uno streamer. Sono lo streamer più grande in Italia di Brawl Stars. È anche uno degli streamer più grandi del gaming, se non il più grande che fa anche cose su YouTube, assieme a Zano. Cosa porterò adesso? Allora, io ve l'ho detto. In realtà avevo mezza intenzione di abbandonare questo account una volta raggiunta la Top 200, ma mi sa che dovremmo iniziare prima, ragazzi, con il secondo account. Mi piacerebbe fare magari un grado 30 a livello 1, mi piacerebbe fare cose interessanti anche sul secondo account, riniziare un po' con la stessa passione di prima. Però veramente pesante. E la cosa che mi dà ancora più fastidio è che io avevo delle persone che hanno usato dei soldi, perché magari si sono abbonate al mio canale per entrare nel mio club, perché c'ero io, per avere la mia amicizia, eccetera, eccetera. E queste persone, visto che l'abbonamento dura un mese, non potranno entrare nelle mie amicizie, perché sono stato bloccato. Non avranno magari quella possibilità in più di poter giocare con me. E io stesso non posso giocare con voi. Sinceramente prenderò la palla al balzo, nel fatto anche che sono nel nuovo studio, e farò un po' più di variety. Farò molti più giochi, infatti stasera non faremo soltanto Brawl Stars, in live non porterò soltanto Brawl Stars, faremo anche tanti altri giochi. Non ho uno pronto per stasera. E potrei tornare un po' indietro, magari fare un po' di Minecraft. Ma ho visto un sacco di gente che scriveva Godo, ho visto un sacco di gente che faceva TikTok, adesso non potrà più fare questo. Io entrerò in quella stramaledetta Top 200, che a voi vada bene o meno. Tutti quelli che scrivono Godo, 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 godete del fallimento altrui. Voi siete a casa sul vostro divano e non avete concluso nulla della vostra vita. Anzi, addirittura state parlando della mia di vita. Godo io, Godo io a vedervi rosicare così tanto. Il fatto che io sono stato bannato era più in tendenza di quello che voi non raggiungerete mai nella vostra vita. E quando sarò in Top 200 Italia, la dedicherò anche a voi quella vittoria. Che sarete lì da fare così. No, ce l'ha fatta, com'è possibile? Vi immagino proprio così, è Godo. Godo un sacco. Let's go! Ho visto anche che il sindaco Ballarini ha fatto partire l'hashtag frilollo. Lo voglio un sacco bene, il sindaco Ballarini. Ho visto che poi delle persone lo hanno fatto partire a loro volta. Però vi assicuro che non so quanto servirà questa cosa. Perché quelli della Supercell non andranno a vedere i TikTok dove c'è scritto hashtag frilollo. Però io l'ho apprezzato. È un supporto morale importante che mi ha fatto sentire un po' più sollevato. Però mi ha rosicato un botto essere stato bannato. Siamo così forti. Non voglio dire sono, perché non mi piace parlare a singolare. Siamo così forti, ragazzi, che per fermarci hanno dovuto bannarmi e hanno dovuto poi rapirmi. Non so se avete visto la gag dove mi hanno rapito in questa stanza, ma mi hanno veramente dovuto bannare per fermarmi. Abbiamo fatto così tante tacche di coppe che mi hanno dovuto bannare per frenarmi. È incredibile. E nonostante questo non mi riusciranno a fermare. Quando mi sbloccano io sarò 24-7 in questa stanza a raggiungere la top 200. Se non addirittura più in alto. E quando se ne accorgeranno sarà troppo tardi. E ragazzi, io spero che questo bann serva anche per fare giustizia più avanti. Perché a me interessa poco. Ok, ci ho speso tanti soldi. Però quello che ho fatto rimane. Perché posso riguardarmi i miei video su YouTube. Quello che ho fatto mi ha avvicinato a voi. In questo momento siamo in 10.000 tra TikTok e Twitch in live. Siamo tantissimi. Mi ha avvicinato un sacco a voi. Vi voglio bene. Grazie anche di esserci in questi momenti un po' negativi. Però io penso ad Indu. Che ha giocato per anni per arrivare primo in Italia. E si trova l'account andato così. Penso ad Avi che è arrivato a 100.000 coppe e voleva arrivare in top Italia ed è fermo per 31 giorni. Per lui 31 giorni sono tantissimi. E lo dico anche per tutti quelli che sono stati bannati ingiustamente. Quando ci sono delle persone là fuori che rovinano il gioco. Che si meritano davvero il ban. Io farò di tutto per fare in modo che funzioni bene il ban su questo gioco. Perché ho visto troppa gente che è stata bannata ingiustamente. Troppa gente che è stata sbannata ingiustamente. Troppa gente che dovrebbe essere bannata. Hashtag frilollo ragazzi. Frilollo to the sky. Ma anche se non ci liberano, anche se non mi sbannano, poco importa. Perché prima o poi bisognerà fare i conti con la realtà. E prima o poi qualcuno avrà il suo account. E se non avrò il mio account ragazzi avrò il secondo account. E se non avrò il secondo account avrò il terzo account. Possono provare a nerfarmi. Ma non puoi bloccare una persona con una tenacia come quella di Lollo. Con una dedizione tale da raggiungere sempre la beta. Anche perché in realtà Supercell... Adesso magari molti avranno una grande rabbia nei confronti di Supercell. Ma Supercell ha fatto poco in questa cosa. Supercell alla fine ha fatto quello che doveva fare. Il vero problema non è la Supercell. Il vero problema sono le persone dietro tristi che abusano tra virgolette del sistema di Supercell. In due Davy si attaccano. In due è stato permabannato. Quindi a meno che Supercell stessa decide di sbloccarlo non si può fare niente. Davy verrà sbloccato. Tanto quanto me. Io devo aspettare e Davy deve aspettare. Io sono un genio ragazzi. Molti hanno anche speculato una cosa interessante. Ovvero che io sono stato bannato perché sono riuscito a prendere l'icona del creator due volte. Ma non è per quello. Purtroppo non è per quello. Sarebbe stato bello e lì me lo sarei meritato. Supercell non prendete nota. Sto scherzando. Non è per questo. Però mi è rimasta l'icona del creator. Quindi in realtà posso flexare che sono un content creator. E tra l'altro vi voglio far vedere una cosa molto interessante. Se voi andate nel negozio. In fondo qui. E mettete il codice creatore. Lollochef. Funziona ancora. Nonostante il mio account sia stato bannato. Manca pure che ti bannano su sto account bro. Mi bannano qui è crazy. Su sto account ve lo giuro. Piuttosto mi metto a giocare con i random. Partite in qualche lobby strana. Anche perché ho 3000 coppe. Quindi è difficile trovarmi se siete degli sniper. Ho paura ragazzi. Ho paura di fare qualsiasi cosa ora. Mi possono bannare da un secondo all'altro. Letteralmente. Lacustri. Io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito se volete stare ancora in mia compagnia. Io vi lascio qui due video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre. E noi ci vediamo al prossimo.